Il centro estivo della Canottieri Baldeseo di Cremona ha una storia a lunga 20 anni ed offre ai bambini, dai più piccini agli adolescenti, divertimento e tanto sport. Il centro estivo è stato pensato 20 anni fa. 20 anni fa si è creduto di fare un ottimo servizio ai genitori avendo questo centro estivo e ai ragazzi introducendoli nelle varie attività. Ogni settimana la società accoglie nuove iscrizioni sia per i soci che per gli esterni. Le discipline sportive in cui si possono cimentare i bambini sono veramente numerose e permettono di scoprire nuovi interessi. Le iscrizioni sono settimanali e fanno tutte le discipline che abbiamo nella Canottieri Baldeseo, quindi parliamo e anche quelle che non facciamo ma facciamo come divertimento come se vogliamo inquadrare i bisboli che stanno facendo adesso. Quindi il nuoto, il tennis, la canoa, il canottaggio, il campo da basket, il ping pong ed è un indirizzo prettamente sportivo. È gestito da due maestre da tennis che sono Matteo Pifferi e Marco Pappani con degli ottimi collaboratori. Abbiamo l'orario di accoglimento che è dalle 7 e mezza alle 9 e lasciano la società dalle 16 e 30 e possono prolungarlo fino alle 18. Mangiano con un buono pasto che è fuori dalla quota, comunque è una quota molto contenuta, al nostro ristorante. Sono principalmente figli di soci, ma non è esclusa la possibilità di prendere anche altri ragazzi che comunque devono essere presentati dai soci. Attualmente in questa settimana sono una settantina e come vedete si stanno divertendo. Per ogni sport ci sono istruttori altamente qualificati. Facciamo un sacco di attività per quanto mi riguarda il maestro di basket. Penso a far divertire i bambini insegnando le basi per poter un minimo giocare a basket e ci divertiamo.